Come funziona la valvola di laminazione nel circuito frigorifero di una pompa di calore? Lo vedremo oggi in questo video e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campana a fianco così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao! Oggi siamo qui per vedere, nello specifico, come funziona la valvola di laminazione in un circuito frigorifero della pompa di calore. Ne prenderemo una tagliata a metà e vedremo come è fatta al suo interno. Prima di partire però lascia con i miei presenti, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a staccare il contattore del gas e trasformare la casa in 100% elettrica e tutto questo grazie alla rete di installatori partner Sigilo Sicuro. Ah, e se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, vai nel link qui sopra o nella descrizione del video. Oggi vediamo come funziona la valvola di espansione. È un elemento fondamentale nel circuito frigorifero. Perché? Perché permette di abbassare la pressione del gas prima di entrare nell'evaporatore, prima che il gas evapori. Perché è tanto importante? Perché permette di aumentare l'efficienza del circuito frigorifero, cioè fare meno fatica al gas di evaporare. In che senso? Beh, considera una pentola d'acqua, no? Se tu vai al mare e porti in ebollizione una pentola d'acqua e la stessa pentola d'acqua la porti anche in montagna, ti renderai conto che in montagna l'acqua arriverà all'evaporazione molto prima. Perché? Perché la pressione in montagna è inferiore rispetto a quella al mare. Quindi meno pressione c'è che quella che tiene praticamente l'acqua in stato liquido, meno pressione c'è e più è facile che l'acqua evapori. Quindi fa meno fatica, ha bisogno di meno energia per evaporare. La stessa cosa la fa la nostra valva di laminazione. Prima di evaporare il gas all'interno dell'evaporatore, mi permette di ridurne la pressione. Vediamo com'è fatta su interno. Questa è una soluzione meccanica molto interessante per capire. Poi ovviamente l'evoluzione tecnologica ha portato a valve di espansione un po' più complesse. Eccoci qui con la nostra valva di laminazione tagliata per bene, in modo da capire come funziona. Allora, il componente principale della valva di laminazione è il capillare. Il capillare è un circuito chiuso, questo è un tubicino forato con la parte terminale ed è tutto riempito di un gas particolare che arriva fino a qua. Acquista Vivere Senza Gas, il libro fondamentale per la famiglia che vuole trasformare la propria casa in 100% elettrica e dire per sempre addio alle bollette del gas. Cosa fa questo gas? Quando la temperatura cambia, quindi quando riscaldo questo componente, questa parte finale, il gas naturalmente riscaldando aumenta di pressione. Pensa alla pentola di pressione che hai a casa, più riscaldi più aumenta la pressione. Stessa cosa, aumentando la pressione, questo è a contatto con l'evaporatore. Tornando nel nostro circuito frigorifero, il capillare va a sentire la temperatura di evaporazione, quindi qui nella batteria prima che andiamo nel compressore. Quindi quando aumenta la pressione qua all'interno, il gas espande e qui c'è una piccola membrana che a sua volta si espande. Aumentando l'espansione di questa membrana, qui c'è uno spillo che viene premuto e schiacciato, a seconda ovviamente di questa pressione, e mi permette di aprire o di chiudere un piccolo forellino. In base all'apertura e alla chiesura di questo piccolo forellino, avremo anche una pressione diversa in uscita. Immagina, no, di avere una tubazione d'acqua, ad esempio, più ci metto un dito davanti al tubo d'acqua e più la pressione sale, più invece lascio passare l'acqua e più la pressione invece va a decrescere. Stessa cosa abbiamo qui, il gas refrigerante, che prima di andare all'evaporatore, più apro questo forellino e più la pressione decresce, quindi cala, in modo da far meno fatica al gas di evaporare. Ovviamente poi tutto deve essere coordinato e bilanciato affinché funzioni, per ottenere COP e prestazione della pompa di calore in maniera ottimale. Quindi l'abbiamo semplificata al massimo, ma tutti i componenti devono essere coordinati tra di loro. Bene, spero con questo di averti dato dei chiarimenti ulteriori sulla vallo di laminazione del circuito frigorifero e se vuoi trasformare anche tu la tua casa in 100% elettrica, vai nel link qui sopra o nella descrizione del video. Alla prossima!